in salute con marco un podcast di marco bianchi un viaggio nel corpo umano a 360 gradi tra scienza e alimentazione episodio 9 il cuore l'importanza dell'alimentazione e della prevenzione primaria ci siamo possiamo partire questa è un'altra puntata di in salute con marco quindi oggi parliamo di cuore ma non parliamo ovviamente di quello che è il i problemi di cuore bensì parliamo delle linee guida io parlo sempre di linee guida legate all'alimentazione ma esistono anche delle linee guida legate al cuore e per farlo ovviamente ho invitato il mio cardiologo quindi alessandro durante ciao alessandro tu sei responsabile dell'unità cardiologia del politico san marco grazie grazie per un invito veramente non potevo non essere qua con marco che è un amico è un piacere e voglio proprio dalla tua voce insomma raccontare un po' quelle che sono le ultime sono novità anche perché intanto sei un ragazzo molto attento anche alla ricerca al mondo del dell'ultima pubblicazione un po' attraverso i tuoi social un po' attraverso i tuoi pazienti però insomma fai sempre diventi sempre portavoce di quelli che sono anche gli aggiornamenti scientifici questa è una cosa bella insomma che non fanno tutti e non può mancare secondo me nella medicina di oggi l'aggiornamento continuo e anche la ricerca perché comunque ci tiene svegli e pronti a quello che sarà certo su come mettere le mani insomma nel domani linee guida dell'alimentazione linee guida appunto del del cuore cosa dobbiamo sapere allora se ci sono ma immagino di sì sì per il cuore è semplice l'alimentazione l'alimentazione sana quella che tutti conosciamo come alimentazione sana quindi un'alimentazione prevalentemente vegetale che poi punti a mantenere più bassi possibili livelli di colesterolo e soprattutto per evitare l'ipertensione punti a assumere poco sale perché come sappiamo il sale che assumiamo dall'alimentazione è in eccesso con l'alimentazione quotidiana in media in italia assumiamo quasi il doppio del sale rispetto a quello che è raccomandato è impressionante comunque questi questi dati e ad oggi ancora rispetto a tanti anni rispetto a tante campagne che vengono fatte ancora sono alti questi valori insomma le assunzioni di sale la cosa incredibile che anche non aggiungendo sale quindi senza salare dopo noi superiamo il fabbisogno quindi solo con i cibi che assumiamo e per questo ci fa capire quanto bisogna stare attenti quanto però possiamo ancora migliorarci perché sicuramente sicuramente quindi se parliamo invece di colesterolo oggigiorno cosa vuol dire cioè dobbiamo ancora avere paura del colesterolo e ancora il tuo principale datore di lavoro in qualche modo non passami il termine beh oddio le placche gli accumuli ci sono ci sono e per fortuna per me non lavorerei paura no perché è una cosa gestibile sicuramente è aumentata molto l'attenzione sono cambiati i livelli di riferimento che si sono abbassati nel tempo ed è cambiato un po il concetto aspetta ti interrompo appunto si abbassati i valori vuol dire quindi che ci dobbiamo mettere in allerta prima ancora di un tempo esatto una volta si è partiti da 250 di colesterolo totale come livello diciamo di allarme poi è sceso a 200 poi è cambiato un pochino il concetto quindi non si parla più di colesterolo alto ma di dislipidemia quindi si guardano tutte le varie parti del colesterolo quello cattivo che è l'LDL e quello buono che è l'HDL l'HDL va tenuto alto perché pulisce le arterie l'LDL che è quello cattivo va tenuto basso perché tende a sporcare le arterie il livello di LDL è quello che si guarda adesso nelle linee guida e è stato anche questo abbassato in modo notevole da 150 le ultime linee guida ci dicono che in prevenzione primaria quindi una persona sana dovrebbe avere meno di 116 di LDL che è un livello basso ma per farlo cioè l'alimentazione ovviamente aiuta tanto lo stile di vita in generale quindi immagino anche fumo attività fisica possono influenzare i livelli e quello è il primo approccio le stesse linee guida dicono che se una persona ha il colesterolo alto il primo approccio in prevenzione primaria è proprio questo lo stile di vita quindi migliorare l'alimentazione camminare di più eliminare il fumo e questo è quello che bisogna fare solo dopo si può passare a una terapia diciamo e qui alzo la mano io ormai già qualche anno che il mio cardiologo cioè il dottor Durante insomma mi ha prescritto la statina un po' per familiarità un po' perché abbiamo visto che nel corso degli anni malgrado tutto lo sport che praticavo e l'alimentazione insomma sto colesterolo non voleva scendere quindi qua sfatiamo un po' anche un mito si può assumere statina ovviamente sotto controllo medico sotto esami insomma perché ovviamente non ci siamo improvvisati nel nulla allora si deve assumere se c'è bisogno e se c'è l'indicazione i farmaci non vanno regalati ma non bisogna neanche averne paura non ho mai capito perché c'è tutta questa paura delle statine perché in realtà sono dei farmaci sicuri ed efficaci possono avere l'effetto collaterale che tutti conoscono di cui tutti hanno paura che è il male ai muscoli ma è un effetto comunque raro ed è un effetto completamente irreversibile quindi anche chi ce l'ha basta sospendere la statina o cambiarla o ridurre il dosaggio e passa non c'è niente di cui temere quindi vabbè almeno almeno su questo abbiamo un po' tranquillizzato la community perché e peraltro anche tu facendo tanto sport non hai mai avuto problemi non hai detto che venga no 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 assolutamente sto bene il colesterolo è perfetto questa è una cosa bella ogni volta che ti mando gli esami poi la medicina è meravigliosa altro che senti abbiamo parlato di colesterolo e però anche la pressione ovviamente ha il suo perché immagino nel tuo mondo quando misurarla perché e se appunto è necessario davvero farlo allora quando misurarla questa è un'altra cosa che molti sbagliano non va misurata sempre allo stesso orario perché questa è una novità allora tutti ciascuno di noi ha un andamento della pressione che varia durante la giornata la cosa più frequente per delle alternanze ormonali che sia più alta verso sera ma non è così per tutti c'è chi ce l'ha più alta anche al mattino quindi è importante misurarla in vari orari della giornata non deve diventare un'ossessione non vuol dire misurarla tre volte ogni giorno vuol dire misurarla in giorni diversi però variando l'orario e bisogna verificare che i valori siano adeguati anche qui sono cambiati nel tempo una volta si diceva che la massima doveva essere 100 più l'età io trovo 100 più l'età ma ancora adesso io ho persone in ambulatorio quindi dicono no ma io ho 80 anni ho 180 va bene ok non è così adesso ci sono dei livelli che sono più o meno assoluti che vanno bene a tutte l'età che sono diciamo i livelli sopra cui si inizia la terapia 140-90 però la pressione ottimale da linea guida è meno di 120-80 perché tanti quando hanno 110 ti dicono la pressione bassissima no è una pressione che va bene quindi andrebbe bene solo ventenne praticamente esatto ma anche sui bambini si può misurare la pressione vero? sì 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 si può misurare è più raro che ci siano problemi ovviamente di ipertensione a meno di quelle che chiamiamo ipertensioni secondarie quindi legate ad altri problemi di salute e come sono cambiati i numeri rispetto ai tempi appunto tempo fa per quanto riguarda il monitorare tutti questi parametri cioè oggi siamo molto più attenti abbiamo anche delle macchinette in casa casalinghe non per forza ci andiamo a ricorrere il nostro medico curante o in farmacia per misurare la pressione quanto sono affidabili questi numeri che noi possiamo ottenere anche in casa con questi apparecchi? sono affidabili faccio l'esempio della pressione il monitoraggio pressorio con gli apparecchietti quelli elettronici casalinghi sono molto affidabili vanno tenuti controllati quindi ogni tanto si possono portare a far tarare però sono direi sovrapponibili a quelli che si possono ottenere in un ospedale o in una farmacia quindi non bisogna avere paura di sbagliare facendo un'automisurazione che anzi spesso è quella più affidabile per dirci veramente qual è il nostro stato perché noi dovremmo fare queste misurazioni in un momento di tranquillità e di serenità per evitare l'effetto camice bianco comunque un rialzo della pressione anche perché fate paura poi voi me li dici ma no dai tu no la figura ti guarda oggi abbiamo anche mi hai portato un ospite mi hai portato che è meraviglioso il tuo cane ma a proposito fa anche pet therapy perché con gli animali il cuore aiuta tanto ho letto anche studi utilissimi a riguardo quindi sentiamo sottofondo a volte le zampette le senti? è meraviglioso Alessandro quanto influisce l'alimentazione sul nostro cuore? cioè in percentuale dammi la percentuale usti questo è difficile eh vabbè lanciati lasciati andare cioè chissene parliamo tra di noi e qualche migliaio di persone allora direi purtroppo non 100% ma c'è tanta componente genetica l'alimentazione diciamo 30% che non è poco no per niente anche se sembra una percentuale bassa diciamo che influisce tanto l'alimentazione anche sullo sviluppo di diabete che è un altro grosso impatto sul rischio cardiovascolare quindi ci sono delle anche patologie che sono correlate cioè che possono poi far andare male il nostro cuore? assolutamente sì 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 le patologie più correlate sono appunto l'ipertensione la dislipidemia e il diabete che comunque sono tutte e tre collegate poi all'alimentazione quindi diciamo che la percentuale assoluta dell'alimentazione poi va sommata a quella di questi tre grossi fattori di rischio e poi ci sono quelli non modificabili che purtroppo non abbiamo che sono la familiarità certo ma io dico sempre che ci sono anche dei ci sono facessimo dei frullati di diverse patologie ormai la ricerca ha scoperto che in questi frullati poi con un setaccio li passiamo ecco e alcune molecole sono simili in tante patologie tra cui appunto anche molte malattie cardiovascolari insomma legate proprio al nostro apparato cardiovascolare hanno appunto un nesso con infiammazioni con diversi aspetti insomma patologici che affrontiamo magari quotidianamente e non ci rendiamo a conto appunto di questa analogia che però c'è no 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 c'è assolutamente l'hai detto tu l'infiammazione è stata la prima tirata in causa la più famosa quella più studiata certo ed è dimostrato che uno stato infiammatorio predispone allo sviluppo di malattie aterosclerotiche a tutti i livelli quindi a livello cardiaco a livello delle carotidi per l'ictus e come vedrai anche con gli altri specialisti anche per altre patologie sì infatti è un po' veramente purtroppo il denominatore comune sta cosa un'ultima domanda legata sul screening età cioè immaginiamo appunto la vita insomma e il ragazzo che diventa adulto quando è il primo esame e quale esame deve fare intanto allora la visita cardiologica e basta purtroppo ci dice poco perché io posso visitare una persona ma non ho i raggi X negli occhi e non capisco secondo me gli esami più utili sono un ecocardiogramma per escludere patologie alle valvole e poi quegli esami che vanno a vedere la presenza di aterosclerosi quindi il doppler delle carotidi con cui possiamo vedere direttamente quella roba che mi fai che fa boom 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 ok con quello vediamo se ci sono delle placche a livello carotideo che è un distretto diverso dal cuore ma la malattia è la stessa e poi in modo indiretto si può fare il test da sforzo che ci fa vedere se ci sono delle placche sul cuore e lì sei cattivo me la metti sopposa la visita e li tira ma questa cosa cioè a che età si fa quindi questo però allora non c'è un'età assoluta secondo me va fatto un po' un bilancio chi ha familiarità magari un papà che ha avuto presto l'infarto bisogna anticiparlo ok diciamo che già dai tardi ai trent'anni è utile sicuramente dai quarant'anni in su poi tanti più sono i fattori di rischio tanto prima bisogna iniziare le donne solitamente sviluppano dopo i problemi di cuore anche se l'incidenza poi tende a pareggiarsi nei due sessi con l'aumentare dell'età diciamo le donne dopo la menopausa sono più wonder woman alla fine veramente quindi in tutto e sempre noi partiamo dal quando nasce un bambino abbiamo sempre i primi o i cg da fare dopo il mese di nascita insomma quindi fino alla tarda età o fino a che comunque non praticano dello sport anche magari in maniera importante non ci sono dei controlli importanti da fare dopodiché però una volta all'anno lo facciamo cioè io giovane ragazzo adulto insomma a posto devo anzi diciamo che nei giovani giovani si può fare anche ogni due anni e poi diventa una cosa che è annuale è sicuramente utile come screening anche per una diagnosi precoce perché nel campo cardiovascolare una diagnosi precoce salva la vita migliora la qualità di vita perché anche chi ha problemi di cardiopatia ischemica quindi di placche se trattato per tempo ha un'aspettativa di vita normale una qualità di vita normale dopo uno stent si può andare a fare la maratona se ben seguiti certo ultima domanda giuro no mi piace parlare insieme e mi piace farlo appunto per in salute con Marco quindi molli intanto corre corre per per casa una domanda legata agli esami del sangue da fare perché mi ha insegnato inizio chiacchierata che è buona cosa fare un colestolo frazionato intanto ad esempio c'è un altro parametro che dobbiamo tenere presente o richiedere al nostro medico curante quando facciamo un controllo destinato al cuore proprio quindi allora ogni tanto si vedono anche altri parametri richiesti diciamo che quelli più validati sono le frazioni del colesterolo quindi colesterolo cattivo e colesterolo buono io non non complicherei di più la cosa perché poi diventa patologica quasi e diventa poi di difficile interpretazione di difficile comunque gestione quindi anche andare a cercare altri diciamo parametri che sono stati magari studiati in qualche ricerca certo singola ma non sono mai stati inseriti nelle linee guida rischiamo solo di complicare io sono per la semplificazione in medicina secondo me il medico bravo deve sapere tante cose e poi semplificarle al massimo perché altrimenti è fondamentale confonde anche il paziente Alessandro grazie mille credo che veramente abbiamo chiacchierato di tutto quello che in qualche modo insomma tocca le persone quindi grazie per essere stato qua grazie e noi ci vediamo invece al prossimo appuntamento con In Salute con Marco In Salute con Marco è una produzione Realize Networks In Salute con Marco